Musica, balli e striscioni in piazza Santa Croce. Ieri sera, a partire dalle 18, i cittadini di Torre del Greco si sono riuniti di fronte alla Basilica per protestare pacificamente contro le chiusure imposte dal DPCM. In piazza, tantissimi giovani e rappresentanti delle categorie più colpite dall'enorme anticontaggio. Non siamo negazionisti, sostengono a più riprese i partecipanti. Il virus c'è ed è pericoloso. Vogliamo che venga garantito sia il diritto alla salute, sia il diritto al lavoro. Infatti, più volte gli organizzatori hanno ricordato ai partecipanti di osservare le distanze di sicurezza e indossare le mascherine. Quella di stasera è una piazza pacifica, sicuramente. È una piazza che è stata convocata per manifestare un disagio sociale della città, delle attività lavorative, delle categorie in difficoltà. Una situazione in cui ci hanno messo perché gli aiuti, il sostegno promesso tarda ad arrivare. C'è chi ancora aspetta quello del primo lockdown. In tutto questo, però, non dobbiamo dimenticare chi un contratto di lavoro non ce l'ha, chi magari è un lavoratore in nero e chi quindi ancora di più subisce le conseguenze della crisi economica che sta accompagnando questa crisi sanitaria e questa emergenza sanitaria. Durante il lockdown a Torre del Greco è stata attiva una rete tra commercianti, associazioni e cittadinanza che ha appunto dato aiuto e sostegno alle famiglie che non riuscivano ad andare avanti e che si trovavano nella condizione appunto di non riuscire a mettere un piatto di pasta a tavola. Nessuno nega che c'è un'emergenza sanitaria in atto, ma certamente non si può non tener conto di tutte le conseguenze economiche che stiamo vivendo. E in più dobbiamo anche mettere le istituzioni, la regione, di fronte alle proprie responsabilità. Se stiamo a casa, se chiudiamo le attività, c'è bisogno che il sostegno al reddito delle famiglie, delle categorie e anche di chi non ha un contratto di lavoro o dei desoccupati, arrivi, arrivi prontamente. Sulle scale della Chiesa molti rappresentanti di categoria hanno parlato del disastro economico che stanno vivendo. Gestori di palestre, titolari di locali, musicisti e artisti di ogni genere. Non sono mancate musiche popolari e balli per ricordare l'importanza di tenere viva la nostra cultura. Un'ora d'aria, come l'hanno definita in molti, contro coprifuoco e chiusure in una piazza Santa Croce blindata. Camionette della polizia, volanti ed agenti hanno vigilato che la protesta non degenerasse in violenza.